Ciao amici sono Lox, bentornati sui fatti e le opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. Stasera a finale di Serie B, sappiamo chi è la terza promossa che va ad aggiungersi a Empoli-Salernitana, ovvero è il Venezia, ma sincero ragazzi non mi aspettavo assolutamente una partita di questo genere. Dopo l'andata vinta chiaramente dal Venezia per 1-0, ma al di là del punteggio giocata molto meglio dagli uomini di Zanetti, oggi mi aspettavo una partita in controllo da parte della formazione veneziana. Invece devo dire che forse è un po' complice l'undici iniziale che non mi è piaciuto stavolta messo in campo da Zanetti, forse un po' il braccino del tennista, quando affronti l'avversario più forte, hai il match point in un risultato più clamoroso per te, il Venezia era un passo della promozione, ha giocato soprattutto un primo tempo disastroso, nel quale gli uomini di Venturato al contrario hanno buttato veramente tutte le proprie energie in campo, hanno giocato un grandissimo primo tempo, hanno trovato il gol del vantaggio e hanno trovato anche l'uomo del vantaggio per colpa di un'espulsione di Mazzocchi del Venezia. Con dieci uomini il Venezia invece nel secondo tempo ha messo su una difesa straordinaria, Zanetti il minuto chiave della partita è il 55, le sostituzioni con le quali Zanetti ha riequilibrato la formazione e da quel momento il Cittadella è calato, Iori purtroppo per il Cittadella è calato dopo un primo tempo straordinario e il Venezia è riuscito mano a mano a controllare la partita, ha gestito molto bene gli ultimi minuti, addirittura al minuto 92 nel tempo di recupero ha trovato anche il gol del pareggio. Partita quindi che va a finire sull'1-1, il Cittadella passa il turno, in realtà anche con la vittoria 1-0 del Cittadella per effetto della posizione in classifica il Venezia sarebbe stato comunque promosso, il Cittadella aveva bisogno di questo secondo gol. La partita è stata veramente avvincente, io mi sono divertito tantissimo come sempre come spettatore neutrale devo dire che la partita ha avuto una tensione agonistica e legata al risultato veramente notevole. Ci sono stati momenti anche di confusione tattica, tecnica, insomma la partita non è stata esattamente nitida nessuna delle due formazioni, ha giocato esattamente al meglio delle proprie capacità perché probabilmente la posta in gioco in paglio così alta ha impedito le due squadre di sviluppare il proprio gioco nella maniera migliore. Però questo pathos che c'è sempre stato, devo dire che ha dato vita a una partita a mio avviso assolutamente godibile, una finale meritevole di un gran campionato come sempre quello di Serie B. Devo dire, ne parleremo poi meglio nella nota arbitrale, una nota di stonata in questa partita a mio avviso l'arbitraggio di Orsato. Prima ancora del fatto dell'arbitraggio, la disegnazione di Rizzoli. Io credo che con tutti i buoni arbitri comunque che abbiamo nel campionato di Serie B che hanno fatto un ottimo lavoro durante la stagione, non c'era bisogno di dare a Orsato come già fu la prima partita di campionato, dagli anche questa. Quarto uomo era Pairetto, Pairetto è stato uno dei migliori arbitri di questa stagione di Serie A avrei preferito un premio a Pairetto. Orsato ha inciso nella partita, a mio avviso ha commesso anche diversi errori che sicuramente non è stato il migliore in campo, non ha offerto una prestazione all'altezza della sua fama visto che rappresenterà anche l'Italia agli europei. Venendo nella cronaca, primo tiro, parte meglio il Cittadella che comunque è pieno schierato in campo e mette in apprensione il Venezia, però la prima conclusione in realtà al decimo minuto è un tiro di Aramu da fuori, per imparato da Castrati. Tra il tredicesimo e il quindicesimo, due azioni pericolose in area del Cittadella con dei contrasti nei quali tu in entrambi i casi Orsato decide di lasciare proseguire nel primo caso c'è una trattenuta di Ceccaroni su Beretta devo dire a primo avviso mi sembrava che ci potessero stare gli estremi del calcio di rigore vedendo il replay c'è anche Beretta che si aiuta molto su Ceccaroni quindi credo che in questo caso Orsato abbia fatto bene a lasciare proseguire. Qualche dubbio in più invece un paio di minuti dopo quando c'è un'entrata in gioco alto di modulo sulla testa di Zagiù, Zagiù poi colpisce lui la palla Orsato se la cava dando un calcio d'angolo totalmente inventato al Cittadella a mio avviso la gamba alta di modulo qualche penalità avrebbe dovuto portarla ora probabilmente ci potrebbe stare anche il calcio di rigore Orsato in entrambe le occasioni decide di lasciare correre senza nessun problema. Il Cittadella continua a proporsi molto bene in avanti ha un'assenza pesante oggi perché Baldini non ha giocato e credo che questa sia una mancanza molto importante che ha inciso molto nella partita degli uomini di Venturato ma al venticinquesimo trova il gol del vantaggio una gran palla di Iori, una verticalizzazione un'imbucata straordinaria Ceccaroni lascia scorrere la palla è bravissimo Proia a inserirsi anticipando Molinaro che si fa sorprendere da dietro e trova il gol del 1-0 Cittadella in vantaggio Venezia bloccato che fa fatica veramente a costruire qualcosa in avanti mi ricordo solo una conclusione di Di Mariano con un'azione personale ribattuta della difesa invece al 35esimo minuto c'è quello che poteva essere il momento chiave Mazzotti si fa ammonire per un fallo attorno alla linea di metà campo un minuto dopo fa un secondo fallo un intervento nettissimo in ritardo su una fascia arriva Orsato, lo ammonisce per la seconda volta e lo espelle decisioni in questo caso credo giusta da parte dell'arbitro di Schio Venezia che resta in 10 subito interviene Bere Zanetti sostituendo Aramu e inserendo Ferrarini così da riproporre comunque una linea a 4 con un terzino di ruolo diciamo che copre la fascia il primo tempo si va a concludere ancora con un paio di buone occasioni per il Cittadella Cittadella che ha fatto molto nel primo tempo ma lo porta in vantaggio soltanto sull'1-0 nel secondo tempo pur avendo il vantaggio numerico dell'uomo in più devo dire Cittadella un po' alla volta lascia, cala molto, cala Iori cala Iori che è stato il giocatore decisivo in bucate giocate straordinarie c'è un buon tiro di Branca una botta di Branca diventa in corner e poi al minuto 55 la mossa di Zanetti che cambia completamente la partita vengono sostituiti Di Mariano e Togordo entrano Jonsen, finalmente il migliore in campo a Cittadella e soprattutto Fiordilino Fiordilino giocherà una partita eccezionale a mio avviso il totale migliore in campo di questa partita sistema il centrocampo si propone in avanti sistema praticamente da solo quasi tutti i problemi del Venezia per di più avere Jonsen sulla fascia vuol dire ritornare a mettere sotto pressione la difesa del Cittadella al 66esimo c'è un'occasione nel quale è il Venezia a protestare nei confronti di Orsato c'è una trattenuta di Donna Roma ai danni di Modolo ora la trattenuta c'è evidentissima c'è uno strattone della maglia a termini regolamentari è chiaramente calcio di rigore non possiamo capire dal replay se l'entità potesse portare un rigore Modolo forse si lascia cadere in maniera un po' troppo facile però sicuramente il giallo che gli dà Orsato è totalmente fuori luogo perché comunque il contrasto c'è non credo che si possa assolutamente parlare di simulazione da parte di Modolo comunque Orsato lascia correre anche in questa situazione decidendo probabilmente oggi di non concedere calci di rigore c'è ancora una buona decisione da parte di Zanetti perché inserisce al 74esimo Cremonesi ma soprattutto Boccalone al posto di Forte Forte ha giocato una partita generosa ma un po' imprecisa ed è proprio Boccalone che al minuto 92 trova il gol del pareggio su una bellissima azione che nasce da Jonsen palla malè, cross al centro bravo Jonsen ad anticipare tutta la difesa del Cittadella battere i castrati e trovare il gol del 1-1 che dà la definitiva promozione al Venezia Rosafio entra solo al minuto 82 e devo dire che Rosafio mi sarei aspettato qualche minuto in più da parte sua giocatore che fu decisivo in tante delle ultime partite del Cittadella ha messo un po' i margini in questo finale io credo nel finale è promozione comunque meritata del Venezia per tutto quello che ha saputo fare nel corso della stagione e perché aver comunque giocato meglio tre tempi su quattro nel Cittadella il Cittadella credo che possa avere rimpianti soprattutto su questo primo tempo dove con un Venezia così debole così confuso così in difficoltà probabilmente avrebbe dovuto cercare di fare un secondo gol che avrebbe incanalato la partita verso la strada dei Patavini dati della partita possesso di palla un assurdo 31 a 69 a foro del Cittadella tiri in porta 4 a 16 per il Cittadella nello specchio 3 a 5 migliore in campo per il Venezia due giocatori assolutamente Fiordilino è il migliore e Jonsen quindi due subentrati mi è piaciuta l'esperienza di Morinaro mi è piaciuto il secondo tempo di Ceccaroni e Modolo per il Cittadella il migliore in campo direi comunque Iori nonostante il calo del secondo tempo poi ha giocato benissimo Branca a mio avviso mi è piaciuta la spinta dei terzini sia Ghiringhelli sia Donnarumma mi è piaciuta la partita di Proia devo dire che i cambi invece in questo caso sono stati un po' meno incisivi rispetto sicuramente ai cambi del Venezia come detto partita arbitrata da Orsato il voto per lui ci sono 36 falli 8 gialli 2 rossi il rosso alla panchina a ramo rosso a Mazzocchi mancano forse un paio di rigori ha concesso anche lui tante proteste ai giocatori non mi è piaciuto il suo arbitraggio voto 5 non mi è piaciuto voto 3 a Rizzoli la designazione perché credo che potevamo cavarcela comunque bene con un arbitro di serie B diciamo anche se non c'è più la divisione comunque per intenderci rispetto agli arbitri che solitamente arbitrono in serie B oppure mi sarebbe piaciuto un primo pairetto per la sua grande stagione fatta quest'anno l'arbitraggio di Orsato comunque non mi è piaciuto telecronaca Tombarello Agostinelli voto 10 io adoro il calcio con una telecronaca di questo genere Agostinelli è straordinario mi piace tantissimo il suo modo di leggere le partite mi trovo quasi sempre d'accordo con le sue intuizioni e con le sue segnalazioni che anticipo già parlando per conto mio con le persone con cui seguo la partita e poi lui le dice per cui sono assolutamente ancora più vicino a lui per questo genere di commenti bravissimo Tumbarello una bellissima telecronaca che completa una bellissima partita quindi finisce questo campionato Empoli Salernitane e Venezia vanno in serie A le seguiremo l'anno prossimo comunque anche nel campionato di serie A io ho un torneo così mi sono come sempre divertito a seguirlo è stato veramente bello vi ringrazio di cuore per l'attenzione che avete messo a tutti i video che abbiamo fatto per questo campionato vi aspetto già faremo magari un video di commento su generale della stagione con delle pagelle magari un po' alle squadre e vi aspetto già per la prossima stagione che con le squadre elettrocesse con le squadre che stanno venendo su della serie C sarà come sempre molto molto interessante quindi grazie di cuore ragazzi iscrivetevi al canale vi aspetto numerosi like se vi piace il video campanella per essere avvisati dei prossimi contenuti noi ci vediamo nei prossimi giorni domani abbiamo le Final Four di Eurolega che partono con l'Armani che va all'attacco di questa Eurolega io vi ringrazio buonanotte un bacio ciao e a presto